ciao ragazzi faccio questo breve video per darvi un'informazione molto molto importante perché oggi su twitch sul mio canale twitch ara trattino basso twitch lo trovate comunque qui sotto in descrizione monteremo in diretta questo bambino qui il nuovissimo black war gremon quindi se volete vedere tutto il montaggio sarà molto divertente mi trovate su twitch così importante non sarò solo ci sarà anche una mia amica quindi venite tutti su twitch vi aspetto alle 16 e 30 ragazzi link qui sotto in descrizione